Pronto? Ciao sono Jesse. Sì ciao sono Max. Dimmi. Ti ho mandato un'email. Ah ok mi hai mandato un'email. Ti vuole fare qualche domanda. Ok ok dimmi pure. Sei libero il 7 giugno dell'anno prossimo? Sì ti confermo la disponibilità per la tua data è un sabato di giugno quindi una data molto richiesta. Perfetto. Ok. Volevo sapere se canti. No non canto sono un DJ. Ah non l'avevo capito. Sì comunque te l'avevo scritto. Dunque noi ci sposiamo alla location dell'uccello volante a Calderozzo. La conosci? Sì conosco la location. Ti ho anche mandato il link di un paio di matrimoni fatti. La conosco molto bene. Molto bella. Complimenti. Ah perfetto. Non lo sapevo. Bene. Invece per il costo? Ma sì per il costo anche quello te l'avevo scritto. Hai due opzioni. Un servizio base per Extra Time o base con fontane fredde, lucide, discoteca. Comunque te l'avevo scritto. Non l'avevo visto. Ok. Non l'avevi visto. Va bene. Invece come funziona per la CI? Ci pensi tu? No. La CI non è inclusa. Comunque te l'avevo scritto. Poi ti rimando la parte della CI così la leggi bene. Sì 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 sì. È a carico dell'organizzatore dell'evento. La devo pagare io? Non l'avevo capito. Ma fai anche le fontane fredde? Sì certo. Faccio anche le fontane. Comunque ti ho mandato dei video delle fontane. Chiaramente sono due fontane ed è un costo aggiuntivo appunto. Ti avevo mandato i video. Ah perdoni. Non avevo visto i video. Ma senti. Quando ci possiamo incontrare di persona? Allora. Quando ci vediamo di persona no. Io ti ho scritto che l'incontro è su zoom. Quindi attraverso il computer o meet, whatsapp video. Insomma un incontro di persona, gli sposi. Comunque te l'avevo scritto. Ci vediamo durante il sopralluogo? No. Non faccio neanche il sopralluogo. Te l'avevo scritto. Nel senso che nel servizio, a parte che conosco già la location, non è incluso il sopralluogo. Beh quello che mi dice molto interessante. Mi piacerebbe vedere dei tuoi video. Sì. Potete vedere tantissimi video. Instagram o TikTok, YouTube. Comunque ti ho mandato nella presentazione un sacco di video. Non so se hai avuto modo di vederli. Purtroppo no. Ah non hai avuto modo. Ok. Chiaro donami ma sto ricevendo molti preventivi e non ci capisco più nulla. Va bene allora grazie per le informazioni e ci facciamo sentire noi. Ok va bene. Fatemi sapere. Non c'è problema. Abbiamo da sentire ancora altri 24 musicisti. Sto sentendo altri 24 musicisti. No no. Assolutamente. È legittimo. Fate il giro che desiderate e poi mi chiamate se il mio servizio è quello che preferite. E quanto tempo prima dobbiamo confermare la prenotazione? Quanto tempo prima dovete dirmelo. Se siete liberi voi se non libero anch'io. Nel senso che io prendo il primo matrimonio utile. Poi è un sabato di giugno quindi immaginerete. Comunque fatemi sapere appena potete. Noi grazie. Ciao. A presto. Perfetto ragazzi. Grazie per la telefonata. Ciao. A presto.